eccoci qua buonasera senti benvenuti qui su vannisagnori.it facciamo un giro d'orizzonte ci sono polizia, carabinieri, forze dell'ordine, amici, non so se c'è anche la band, la rock band vedete qua facciamo una piccola perlustrazione ci sono autoblue, un bettor, ci sono i giornalisti qui mi ha permesso? il patro di gioco? ci sono un piccolo, un sattacco di maggiore non era un po' una piccola parma cambia di lunghe liberale carabinieri, non so... ci sono un piccolo, ci è un po' di coloro Qua siamo già stati, perlustiamo l'altra parte, qua c'è il retropalco, il palco si è già illuminato, adesso magari seguiamola in maniera da avere una, direi che così siamo a posto. Questa è stata una bella serata, siamo molto stanchi, ma relativamente, vediamo se riusciamo qui a uscire per lo sterare l'arena e ad andare da dove siamo voluti. Ecco, campo per destinazione, qui ci sono, piacerebbe passare dal prano, passano i rossi in bicicletta per andare a lavorare, vedete quanti studiatori. Allora stessi, ho fatto la vita di passare dal bagno, percorso. Aspettiamo magari un attimo prima di uscire, così attiviamo l'acqua del palco, i ragazzi. Allora stessi, ho fatto l'acqua del palco. 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 Allora stessi, ho fatto i lacrosi. Quanti ragazzi lavorano per un evento di questa levatura, di questo genere, per i minuti, questa scena è bellissima facciamo ragazzi, potremmo anche avventilarci, di più 10 anni passati, non lo so, vediamo Possiamo seguire ad esempio questi vincoli che ci fanno ala Seguiamo, facciamo ala, 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 ala E' uno degli esercizi più belli, usurpare i titoli, no? Purtroppo ci sono ancora molti soccorritori, gli Stuart credo sia noti via tutti Usiamo la doppia telecamera, no? Perchè abbiamo finito lo spazio 1.28, vedete, la giornata L'arena che viene preservata, splendida, RCF Arena, faccio i complimenti Io l'avrei chiamata, senza scherzi, Unipol piuttosto che RCF, va bene, è una bella pubblicità Ed è appagante, estremamente appagante per voi, ci sono Steve Adostes, ma non disturbiamo nessuno, stiamo qui, si diceva una volta alla nostra mano E riusciamo, diciamo, un cerco di navigazione Vedete, i veicoli, abbiamo una doppia telecamera, non so se salutasse con noi, ma vedete qua Qua, 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 magari passiamo un attimo di qua, si Dal campo per destinazione, vedete Poi, si, ottimo, 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 vedete Ecco, mi piace molto l'idea, vedete Ok, la doppia telecamera, vedete Una e dos, no Dopo Dopo Prendiamo su, no, prendiamo la terza, vediamo Prendiamo su, no, parliamo di qua, con una città Weis On Weis 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 La ... mi viene male mi viene male la cellulare non posso che aveva manteniamo la camera cerchiamo bene lo senti si è pagato lì ma non avuto più non poteva male fuori a vorrei sperare in Grazie a tutti. Grazie a tutti.